Il record viene invalidato dal K... K che? Il record viene invalidato Ma che significa invalidato? Non è valido È la gonda Non è in gonda Ma non è in gonda, no! Il record viene invalidato dal K... Che? Dal K... Che? Dal K... K che? K che? La Lucazza che te frega, ma fa legge? Legge, ma... Dal K... Dal K... Chi è? K... K... Centro Che? Arrambicata Gesù, spiegati, ma me vanno andando a camminare Vabbè, il record viene invalidato dal K... Perché? L'arrambicata è stata fatta congelato Eh? L'arrambicata è stata fatta congelato La foto è già congelata Sì, però se sarà arrambicata congelato, è tutto un metro Ma dopo tu dici Dopo tu dici Allora Congelato Congelato? Ma che... È sì, perché gli dici la merda è fatta calda Ah, sì, può essere È sì, sì, sì L'acrime di Chiara Tengo Nucal Eh, ma sì, non è una merda Eh? Ma... Tengo Nucal No, no, Nucal, Nucal Ah, sì Tengo Nucal Che mi fa vedere le stelle Ah, ma... Ah, ma... Ah, ma... Ma ci si... Ma so capire Si, ma... Ma ci scrivi questi notizi Ma ci scrivi questi notizi Se ti metti la scarpa mi si impianella Ma ci si scrive le Notizie Ma che cazzo legge questi notizi? Pure questi quante ne capita quante ne capita cafona io ho detto buon giorno ma non mi ha fatto molto non mi ha detto una parola questa cafona è muta oh che è? ti ho detto che è successo? che è successo? ti ho detto che è successo? allora ex calciatore ancora attivo se è ex come fa essere ancora attivo? ex non è più attivo ex calciatore ancora attivo peccato al 13 e mezzo aaaaaah ex calciatore ancora attivo eh oh peccato al 13 e mezzo con tre prostitute freddo te c***o con l'aia forte qui ora che roba va? ah 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 c***o se chiam un giocatore? no tricella ah ah buon soka volevo dire ah tricella tre prostitute oh doppio dopo sempre quattro tanto porta tanto cosa hai detto quando l'hai intervistato? che hai detto? sono fatto tripletto che può fare? può essere arrabbiato comunque l'hai stranato e ti credo? ti hai un figlio qui sì fidate è poccoletto ma promette bene come si chiama? si chiama Rocco Rocco è ripetato da un padre però ti hai tutto con una ah sì? vabbè è svondato è svondato è svondato piuttosto siete rietti che è successo? che è successo? cacciatore di cinghiali reduce dal Vietnam in pallina in pallina in pallina chi spara? è un cacciatore in pallina gli spara gli spara gruppo di nudisti no questo non può essere ma che hai fatto? chi è? gruppo di nudisti da dove? negri ma come? nudisti negri lì è bemmata ma non può essere dai ma dove siete mai i nudisti negri? lì è bemmata si giustifica un cacciatore era scuro e non ci si vedeva succede sempre così quanto è scuro ma c'è buona scusa ma i nudisti negri uno si mette in uno per prendere il sole una bianca ma una delle vanno in un bosco per sbiancarsi fa un grano si è da sbagliare è normale no la bosca è scura o non ci si vede è certo che fa? si si vede capiva che munne cafona cafona fanne mutte lasciala aperta lasciala aperta lasciala aperta oh eh 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 oh eh e niente che è successo ma che è successo? che è successo? tenta operazione con chirurgo plastico tenta a case tenta sorta di dove scusa? va che tenta è analfabeto tenta 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 no tenta tenta lo faccio tentare tenta l'operazione con chirurgo plastico a case bianche casa bianca cafona allora case bianche non esiste se hai sbagliato a scrivere qua il giornale è scritta casa bianca scusa di è un errore di stampa casa bianca e nesce un nuovo genere umano bua bua ci mancava qui ma buone? certo effettivamente qualcosa ma sei sbagliato che sta facendo? che sta facendo? fermate ma me è strazzi mi sta bene la fotografia dove mi viene? ma io sono lei ho visto la fotografia ma però lo sai che hai detto il chirurgo? giro sul giornale sto puntare stiamo alle prime armi più o meno una botta già sembrata non è che sta parlando il capello dai ma come si guarda la fotografia? eh no ma sai così così già visto che sa no fammi un po' stai pensando stai pensando un chirurgo plástico no lo sai che era passaro ma so è unaह tagliata un aspo che cazzo non fa la cattiva la pubblicità pira puoi sceglierne pure quando va a operare gli stiappa pure un aspo mentre in tribunale in corso il processo gli imputati svaliggiano la casa dell'avvocato che ti difende bella notte di cura fatto bene ma che buona stima ma si è ragionato tutto però l'avvocato secondo me è tutto e guarda cosa faccia perché dichiara continuerò a difenderli mi pagano bene questo è svegliato perché facerà l'economia gli soldi suoi c'era sempre l'economia lasciala aperta a respon scusate un momento se mi decete come i dettagli capiti faccio vedere qualche stagio allora volete un modello riccio così dietro sfumato così è un po più sfumato più oppure la poste fa fermate tu dici quando ti girai e ti giro io è una cosa ma si vedete che era a comando che si è a comando sopra ma qualcuno vuoi farci alla carra? vieni qua fai che non ti ha parrucca non ti girai becchisci alla carra a me mi piace la francesca della carra? come la vedete la francesca della carra? solo da francesca della carra? becchi su un anz su un rete così la francesca della francesca su un rete cucciano ma che si sta buono però pure tu su un anz allora così ve li faccio così soffia come non passa soffia, soffia e da domenica che soffia soffia, soffia, soffia dagli la spolverata cazzo è quello che stai tornando oh quando non succede buono oh quando non succede oh Dio Dio oh chiedete che si è successo e che si è successo? allora dice che questo se ne può più se ne può più ma che è buono dice che questo è uscito dalla sua casa che è una latta di benzina lotta ehi Dio Ascello che? eh? lo vede? puzza stai Ascello Ascello io Ascello io rifornimento ma di non rifornimento ma di non rifornimento ma di non rifornimento la pona Dio 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 ehi Dio Ascello e rendita la latta di caroselli o? caroselli ti scrivo questa mia ma che è caroselli ma che è Rosene? ma che c'entra? a metà degli anni settanta i gassi erano i gassi il caroseno sarà stato il caroseno infatti ma ricordi? in bolletta arrivava piccino i gassi che te ricordi? vabbè insomma chi è qui? chi ci chiede? se non lo fai capito pure chi ci se ne è uscite dal giornale chi ci chiede? in buco vabbè insomma la notizia è questa cosparce la moglie di cherosene e le da fuoco vabbè ma come gli da fuoco? che cazzo della notizia? ma che se la notizia che si scrive? ma perché tu devi capire che dichiarate dopo sentiva sempre freddo ah! è fatto bene scusate che eri te i carbonieri mica volevo ucciderla no mica volevo che? voglio lo scalare ebbene che buono ma in modo questo è scalare i femmine capo senti un po' ma a te no pippetto tuo come ti scalare? a me pippetto miei quando gli dico che sente fritto mettono un chip dentro cammino a me pippetto a me pippetto a me pippetto a me pippetto tu con i scemi vediose quante mappe ci ha per cacciare le crocchette nuca o stupida vediosa un pippetto su un metro e trenta ma un metro e trenta è sempre fornita vediose oh 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 chi siete niente che è successo? che è successo? tragedia di San Silvestro dopo Castel di Lama sai io? a Lama San Silvestro San Silvestro trentuna dicembre allora tutto vado all'anno dimmi se mi facete leggere apprendista benzinaio durante il turno di notte dell'ultimo dell'anno cioccoli 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 vuole festeggiare anche lui a modo suo ehm facendo saltare in aria la pompa di benzina ehm questo è fatto quanto è deficiente questo ehm nonostante tutto sopravvissuto puro puro dichiara entusiasta ti è pure contento e beh siete sentite che botta pensa che imbecilla pensa che imbecilla l'avventura che ti viene fa abbassire ah pure quella poveraccia pure quella dichiara un trentuna no tutto sotto controllo ah capo non è che ti è da appacciare non ti bevi scendere è capiato è capiato ma infatti chi è ma che buone 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 ma buttasse la rete non è più buone no 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 questo è il tuo vontembre va 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 che? hai visto che c'è successo signor? che c'è successo? trama della gelosidro qui che è scalata sono troppo forte ruba la fidanzata al fratello o il gemello non so o fratella o il gemello dimmi guarda dimmi tu sì? che per vendetta gli uccide la madre Allora è stupido, è stupido, è stupido. Ma dai, ma che dici? Lei ha arrestato, tu sai che hai detto? In bretta la rabbia, non mi ricordava pure che era mamma mia. Ma che d'imbecilo? Guarda la fotografia, ma cuide? Infatti, quello gli dice, fratello, ma che cazzo hai fatto, fratello? Che te sacco, cosa scorda? Penso che roba d'imbecilo. Oh, il cannone, il cannone, non è più come una volta. Se vuole me, ora mi ha zimba. Dice, stasperà ancora? Non sa che te lo tocca. Vuole un po' di cosa, ma... Dice, vabbè, gliel'ietta che si è successo? Che si è successo, che si è successo? Allora, ciclista topato. E c'è questa la notizia. Infatti, ci hai mai visto uno ciclista topato? Dove sei visto mai uno ciclista topato? Visto prima che bolla. Mai ricordato. Mai ricordato, ciclista topato. Aspetta un po', è carito. Allora, ciclista topato percorre il giro del 31 per 31 volte. Questa è stupida. Cioè, non è normale, no. Il giro del 31 a 31 volte, non sa quanto fa? 960 in route chilometri. Però... Ma è normale. Guardiamo la foto, guardiamo. Sì, però se tu continui a leggere la notizia, lo sai che è successo? Che questo, ogni volta che passavano il rifornimento, c'era uno che ti dava una sigaretta lunga. Qui si capisce la rusta per farci una sigaretta lunga. Facci una piena. Facci una piena. Eh, tu li che fai? E' roba. E' roba di un vecino. Guarda che roba. Se è finito pure in rota. Eh, manchi ci chiusi. Stai più. Uva, è. Complimenti. Ah, ma andrà a farci la sigaretta lunga. Ma, eh, ma non è bello. Oh, 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 oh. E questa è la notizia, a bocca. Che c'è? Che c'è? Moglie scompare nel più assoluto mistero. Eh, capriamo. Al marito aveva detto. Eh, che ci sarà detto, guardia? Due punti. Ma vada a fare i capiti. Eh, ci capisce. La, la. Ma vada a fare i capiti. La, la. La, la banda. Ma vada a fare i capiti. aveva detto sbagliato a scrivere sbagliate no al marito al marito aveva detto ma come tutto succede ma sono scontata la figlia è un ghiacchiana che è un brutto questa parrucchieria tagli e corte e santa madonna guarda il bambino che facciamo sub nulla